Medico richiesto in traumatologia Sì, vediamo un po' cosa ha questo poveretto Sta bene Eh, un attimo che guarda Ah, oddio Brutta questa Timore ai testicoli Ed anche il prova Che malattia è il timore ai testicoli Prova a evitare Prova a evitare Dovrai visitare un paziente Prego Grazie Sando? Andrea. Cosa ha letto? Eh, io... Devo fare una la doris e una la stagione. Un'altra distanza. Sì, sì. Un eserci. Ăhi, sì. Sando? Quando hai? Ci è la tona, prima la torre. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. E così ci rivediamo. A quanto pare sei vivo, eh? Ti potrei uccidere. Ma non lo faccio. Ti sei meritato la tua vendetta. Ehi, tutto bene? Ehi, ti senti bene? Eh, lo so, sono un po' ingrassato, ma... Che ci vuoi fare? Sì, vedi la bella staglina, eh? Mi stai prendendo in giro? Scusi. Ok, perché sei un idiota, so che sei qui! Scusi. 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 I didn't think he was going to do that easy, did you? You know, for a second there? I kind of did. I kind of did. I kind of did. Come a quick, close the tunnel. Oh! Cheeky! Let's start going up there.